Maria Bassiniana, sono nata nel 1923 a Savona. Sì, ho vissuto fino a nove anni altare perché mio padre era impiegato statale. Poi siamo stati trasferiti a Carchere nel 1932 e poi ho sempre vissuto a Carchere. Cosa facevi quando c'era il fascismo? Sono andata a scuola fino a 18 anni e poi a 18 anni sono andata a lavorare a Ferragna, in chimica, in laboratorio analisi. Ho lavorato per 40 anni a Ferragna, sempre in laboratorio, analista. Come si stava a Ferragna? Bene, sono stata molto bene, ero ben trattata, impiegata. Prima di terza, poi di seconda. Si percepiva da dentro la Ferragna il peso del regime fascista? C'erano delle cose particolari? Ingegnava farsi la tessera? Cosa voleva dire? No, io sono stata bene. Sì, avevamo tutti la tessera fascista, diciamo, io da giovane italiana, a giovane fascico, mi ricordo neanche più bene. Anzi, c'erano tanti che erano piuttosto di sinistra, erano, come si può dire, come erano più quelli che mandavano... Al confine? Al confine, sì, c'erano tanti, erano tanti, per quello che dopo, dopo il 43, la Ferragna è diventata più di sinistra che di... era di sinistra, là poi dopo. Però, so, non c'erano particolari ripercussioni su chi lavorava lì? No, 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 anzi. Io mi sono meravigliata dopo il 43, che ci fossero tante persone, diciamo, di sinistra. Non erano, erano piuttosto toscani, lombardi, che erano venuti a lavorare lì, alla Ferragna. E invece poi arriva il 25... il 25 luglio del 43, crolla il fascismo. Che effetti ha avuto sulla tua vita? La mia vita aveva mio fratello, che era del 26, e doveva... doveva essere richiamato, era richiamato perché era di gennaio, e lui non si è presentato. Si è nascosto qui a Biestro, a Biestro, a Biestro, e ha fatto il partigiano, che poi dopo è andato nelle Langhe, dopo, perché c'era stato poi una... come si dice... adesso non vengono le parole, non ero preparata a questo... un rassellamento. Io andavo a portarle... io e mia madre andavamo a portarle da mangiare. Lì nascosto naturalmente facevamo delle stradine, dei sentieri, diciamo, per portarci da mangiare. E poi dopo il rassellamento invece è stato parecchio tempo a Cairo, in prigione, diciamo. Poi l'ha messa a lavorare nel cemitero di altare, a seppelire i poveri militari, morti. E poi dopo di lì, anche lui, è andato nelle Langhe, è scappato, diciamo, fuggito, è andato nelle Langhe a proprio fare il partigiano. E lì qualche volta siamo andati a trovarlo, ma era un po' un po' difficoltoso, perché naturalmente in bicicletta si doveva fare... qui da Ceva, diciamo, no? Poi le Langhe, lo sapete dove sono. Era quei Mauri. Ma quando voi li portavate, quando era qua a Biestro? A Biestro, sì. Portavate da mangiare solo a lui o anche... No, c'era anche qualcun altro. C'era anche il suo amico. Erano due che vivevano sotto una tenda. Sì, sì. Una tenda piccola, diciamo, proprio... C'era un casolare un po' più lontano, non molto vicino, perché per... E poi un giorno c'erano quelli della San Marco, hanno fatto un rastrellamento. Veramente noi erano andati per fare una passeggiata. Di mattino presto, quando c'è stato uno di loro, si è accorto che c'era... Questi ragazzi erano ragazzi di Biestro. Hanno sparato e sono morti uno o due, non so qualcuno. Mio fratello è uscito a scappare, però è venuto a Carcare. E l'hanno preso e l'hanno portato poi a Cairo. Il tuo fratello ha avuto uno scontro a fuoco? No, proprio a fuoco, lui no, lui non era armato. Però l'hanno preso qui a Carcare. Quando hanno fatto un rastrellamento di tutti sti giovani. Praticamente ci andavate tutti i giorni? Come funzionava? No, tutti i giorni no. Io lavoravo. Mia mamma era a una certa età anche. E dovevamo nasconderci, diciamo, anche noi. Perché c'erano tutti quelli militari della San Marco. Sono stata anche interrogata da quelli della San Marco. Perché poi dopo anche quelli della San Marco cercavano di accordarsi con i partigiani. E noi l'avevamo proprio lì vicino a casa. E mi so che mi hanno chiamato un sergente. Mi ha interrogato, voleva sapere, io non so. Ho detto, non so niente, non so niente di loro. Invece sapevo che erano andati, che erano... Sti militari erano andati lassù con loro. Per via di mio fratello che mi aveva detto. E durante la guerra qui hanno bombardato Bragna, Carcari, ti ricordi qualcosa? Sì, qui alla Montecatini, a San Giuseppe, una mattina alle sette, c'era un'incursione. C'era Pipettola, diciamo. Hanno bombardato, hanno fatto anche qualche ferito, qualche morto anche. Anca Rocchetta. Mi ha tagliato un treno, un pomeriggio di un sabato. E' morto uno proprio, un ferroviere che si chiamava Bassignana. Sì, era di... era piemontese. Da parte di mio padre siamo piemontesi. Da parte di mia mamma invece siamo liguri di Savona, Savona Genova. C'erano dei rifugi qua, di bombardamento, davanti a rasconderti. Come funzionava? Arrivava Pipetto? A Pipetto stavamo... Io non sono mai scappata. Anzi, ero un po'... Io sono sempre stata un tipo piuttosto liberale. La pensavo come lo pensavo io, sì. Dicevo di sì e poi dopo facevo come volevo. Per esempio dovevo andare a Savona, in bicicletta naturalmente. Ci voleva lasciapassare. Un giorno sono andata dal Podestà. C'erano altri che chiedevano per andare a trovare persone all'ospedale. E lui ha detto, ho finito i moduli. Quando arrivo, quando mi ha interrogato a me, mi dice... Dico, no, no. Dico, non chiedo niente perché ho sentito che non avete più moduli. Io poi non dovevo andare all'ospedale. Dovevo andare a ritirare dei tessuti che avevo portato a Savona a tingere. Ah, mi dice lui. Ah, vedo, vedo che comprende, comprende bene. Certo, va bene. All'indomani sono partito allo stesso, senza passaporto, senza lasciapassare. Sono passato allo stesso, in bicicletta. Perché a Savona c'era... Era presidiata? Era presidiata, sì. Come era la situazione a Savona? Ti sentiva il peso dell'occupazione? Ma io a Savona ci sono stata poco. Diciamo, andavo in bicicletta, prendevo cosa dovevo prendere. Tanto per dire, anche qui quando andavo a trovare mio fratello, quando era prigioniero, avevo il tesserino che lavorava a Ferragna. Mi fermano, mi dicono, se ci ha lasciapassare... Ci ho detto, sì, sì, ci ho dato quello. Poveretto, non sapeva leggere. L'ha guardato, l'ho girata da tutte le due parti. E mi ha detto, può andare. Non sapeva leggere, perché sennò c'era scritto che io lavorava a Ferragna, non per passare. Io l'ho fatta così. E se mi diceva qualcosa, diceva, ma mi sono sbagliata. Non ce l'avevo io, lascia passare. Però ero giovane, avevo 20 anni, nel 43. I rastellamenti, ho visto anche poverini delle persone impiccate ai ponti. Certo non mi faceva piacere. Però a quell'età lì le cose si giudicano in un modo diverso di quello che giudico adesso. In che modo? Sì, forse era perché c'era la guerra. Si rimane un po' impressionata vedere un ragazzo impiccato e brutto a un ponte. Però meno che oggi o di più? Eh no, oggi è una cosa diversa. Alla mia età. Fa meno effetto o fa più effetto? Penso faccia più effetto adesso che allora. Allora c'era più fatalismo? E allora tra bombardamenti e tutto. Savona, il primo bombardamento che hanno fatto, no il bombardamento è stato quello delle navi, no? Io ricordo una ciminiera, che adesso non ci sono più, bucata. C'era un foro che si veniva dall'altra parte. E' stata presa proprio così. E' stata presa dal mare. Lo faceva da partigiano? Sì, però aveva un altro fratello che era in guerra, era marinaio. Non sapevamo niente da tanto tempo. Era su un dragamine. Dove? Era a Sicilia, nel canale di Sicilia. Era proprio pericoloso. Era giusto a tornare? E' stato fortunato anche lui. Perché? A Biserta, e lui aveva sbarcato a Biserta. L'avevano dato già per disperso. No, adesso poi racconto questo. Lui era sbarcato a Biserta. Poi è venuto un bombardamento proprio nel maggio del 43. Maggio del 43. C'è stato un bombardamento, un coso, tutte le navi, le nostre navi erano andate a fondo. Lui era sbarcato. Il suo dragamine è stato fondato. Lui è stato preso, per fortuna, dagli inglesi e l'ha portato in Inghilterra. In Inghilterra, però noi non sapevamo niente. Avevamo fatto ricerca attraverso il Vaticano, Croce Rossa e la cosa. Lo stesso giorno che ci è arrivata la notizia, lui che ha scritto dall'Inghilterra, era il 44. Noi pensavamo, un collega di mio padre, ci avevano detto che un marinaio, ci aveva detto Carletto, si chiamava Carletto, che adesso non c'è più. Era del 21, è disperso, è morto perché il dragamine è stato affondato. Lo stesso giorno che mio padre è stato chiamato dai carabinieri per dirgli che era disperso, aveva ricevuto la lettera proprio da mio fratello, che era in Inghilterra, che stava bene, prigioniero. Siamo stati fortunati anche noi, perché se dicevamo la notizia che era disperso, era morto. Pensavamo, fortunati anche in quello. Chissà che è giornata di montagne russe, no? Sì, e io ho telefonato a Ferragna, perché non c'era ancora il 25 di luglio, era maggio. No, la cosa dopo cosa dico, quando è stato preso prigioniero, lui è stato preso prigioniero a maggio. Invece poi cosa è venuta a luglio. Ancora del 43 è successo questa cosa? Sì, è stato prigioniero. Lui è stato uno degli ultimi a arrivare, mio fratello dall'Inghilterra, perché lui non ha aderito, non ha collaborato in Inghilterra. Perché ha detto vado a collaborare, a far caricare gli aerei con le bombe. Però era più rispettato degli altri. È stato molto bene in Inghilterra. Era quasi in Scozia. Si è trovato bene, bene. Ha lavorato in un campo, in una famiglia di contadini. E era stato bene. Grazie. Grazie.